Grazie Presidente. Signor Ministro, la capienza delle carceri italiane è per 50.931 persone. Sono recluse attualmente 53.785 detenuti, quindi ci sono 2.854 persone in più nelle carceri italiane, vuol dire che c'è sovraffollamento e promiscuità. Per questo la Conferenza dei Garanti Territoriali delle persone private della libertà ha rivolto un appello al Parlamento per rischio di contagio, perché non c'è il distanziamento nelle carceri e perché è difficile garantire il livello igienico di contrasto al Covid. I dati del garante dei diritti dei detenuti ci dicono che al 22 novembre scorso risultavano positivi al Covid 732 detenuti e 156 tra il personale penitenziario. L'unica risposta l'unica strategia attuata è quella di chiudere e ci preoccupa molto la chiusura della scuola all'interno delle carceri e quindi la conseguenza e mancanza di ereducazione. Concludo riferendo le parole del Capo Dipartimento Istruzione del Ministero che dichiara che va giustamente garantito il diritto all'istruzione nelle scuole con sede carcerare, oltre alla necessità di fare uno screening attraverso i tamponi. Quindi anche a nome del collega Tondelupi chiedo se si proseguirà l'attività scolastica e come intende il Ministro Ovviare al sovraffollamento e al rischio che le carceri diventino focolaio. Grazie. Il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha facoltà di rispondere. A lei la parola Ministro. Grazie Presidente. Alla data del 24 novembre 2020 su 53.720 presenti negli istituti di pena del Paese sono stati registrati 826 casi di positività al Covid-19, di cui 804 gestiti dall'area sanitaria interna, dei quali 772 asintomatici, e numero 22 ricoverati presso luoghi esterni di cura. 1042 risultano invece casi di positività registrati fra gli operatori penitenziari, 970 relativamente al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria e 72 fra il personale amministrativo e dirigenziale del DAP. Di questi, 1013 si trovano in quarantena presso il proprio domicilio, 19 presso le caserme annesse agli istituti di pena e 10 risultano ricoverati di strutture ospedaliere. Presso gli istituti minorili, su 299 presenze, a fronte di una capienza di 536 posti, tre sono i positivi al Covid-19, uno dei quali era tale già al momento del suo ingresso. In questi mesi il Ministero ha continuato a predisporre misure organizzative volte a limitare al massimo il rischio salute di tutte le persone che lavorano e vivono negli istituti di detenzione. Criteri di ammissione al carcere, con le attività di triage all'ingresso sui detenuti nuovi giunti o provenienti da altri istituti. 145 sono le tenso strutture installate a tal fine e il relativo periodo di isolamento preventivo fino all'esito del tampone. La suddivisione in tre tipologie, isolamento precauzionale, isolamento per contatti stretti con soggetti positivi, isolamento per i positivi, misurazione della temperatura a chiunque entri in istituto, la fornitura, edp, mascherine, gel, tutto sempre a stretto contatto con le autorità sanitarie locali. Quanto al profilo dell'istruzione in carcere, sono ben consapevole della sua rilevanza costituzionale non solo come diritto in sé, ma altresì come elemento decisivo nel percorso di rieducazione di ogni detenuto e con ancora più importanza in ambito minorile. Ad oggi, in generale, l'attività scolastica nel circuito minorile prosegue in presenza, salvo eventuali sospensioni temporanei ed eccezionali, come peraltro avviene per la totalità degli studenti del Paese su disposizione dell'autorità sanitaria o per specifico ordinanze nazionali, regionali o locali. Negli istituti per maggiorenni, dove si sono avvertite le criticità evidenziate dall'interrogante, si stanno portando avanti tutte le procedure per implementare le dotazioni tecnologiche che permettano la didattica a distanza nel momento in cui la stessa dovesse essere prevista come necessaria. Voglio ringraziare in questa sede tutto il personale delle aree educative per l'attività che sta svolgendo per consentire la ripresa e la prosecuzione dell'attività di apprendimento. Questo perché ritengo sia fondamentale non fermare il processo didattico, a patto che sia possibile garantirne lo svolgimento in assoluta certa sicurezza. Grazie.